Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dei Leoni Fai, il podcast dell'Istituto Bruno Leoni che conduco io, Parlamento, insieme a Carlo Stagnaro. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione perché abbiamo deciso di affrontare un tema che riteniamo importante, quello dei vizi perché tra i vizi ci sta anche il gioco d'azzardo, però voi sapete perfettamente che il gioco d'azzardo da qualche anno in Italia ha assunto connotazioni legali perché è stato in alcuni fenomeni legalizzato e questo ha chiaramente creato, ogni qualvolta si crea anche una normativa che permette un'attività purtroppo ci sono anche persone che fanno le stesse cose al di fuori delle regole. Allora per parlarne, per fare un po' il punto, capire che cosa succede dal punto di vista del gioco d'azzardo illegale abbiamo invitato Claudia Ferrari. Claudia Ferrari è sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Palermo con una esperienza sia di reati contro la pubblica amministrazione ma si è anche occupata, si occupa e si è occupata di criminalità economica e nell'ambito proprio della criminalità economica si è occupata e ha potuto approfondire con indagini e inchieste che l'hanno vista protagonista in prima persona anche il tema del gioco illegale, del gioco d'azzardo online illegale e dei legami con la criminalità organizzata. Quindi intanto grazie Claudia per essere qui con noi per il tempo che ci stai dedicando. Sì, grazie a voi intanto. Dicci un po', ecco facci un po' un quadro per chi come noi conosce poco degli aspetti poi invece giudiziari e penali. Esattamente, sì perché allora intanto appunto grazie di questo invito e grazie diciamo per avermi dato l'occasione di parlare di un argomento che qualche volta diciamo balsa un po' agli onori della cronaca e cronaca giudiziaria ma non è diciamo un argomento spesso molto dibattuto, un po' più diciamo di nicchia sia perché anche sotto il profilo appunto strettamente penalistico e sanzionatorio non ha una sua collocazione all'interno del codice penale diciamo forte né ha avuto una collocazione come possiamo dire importante da un punto di vista sanzionatorio soprattutto in passato ma che tuttavia come appunto accennavi e come diciamo poi proverò brevemente a illustrare è un campo di elezione della criminalità organizzata rientra in quel settore grigio di investimenti che è la criminalità organizzata, io diciamo ovviamente vivo e lavoro a Palermo quindi diciamo quando parlo di criminalità organizzata chiaramente di stampo mafioso ma diciamo le cronaca giudiziarie ci dicono, ci raccontano che lo stesso schema si riproduce anche in altri contesti territoriali appunto a forte connotazione di criminalità organizzata diciamo radicata sul territorio, dicevo è una sorta di settore in cui la criminalità organizzata investe risorse per ovvi motivi, sia perché diciamo noi italiani probabilmente, forse non più di altri ma sicuramente siamo un po' quello di scommettitori soprattutto diciamo in relazione ma in generale diciamo tradizionalmente, storicamente tutti i tipi di gioco anche quelli legati agli avvenimenti sportivi e quindi diciamo c'è una larga platea diciamo di utenti del gioco ma anche perché ovviamente diciamo come facile ed intuitivo le modalità del gioco e della scommessa presentano da un lato possibilità di faciliti guadagni ma soprattutto facilità di rinvestimento di risorse economiche anche appunto illegali quindi provenienti da un'attività criminale diciamo più fortemente connotata come può essere un traffico di stupefacenti o racket, estorsione quindi l'attività di gioco e scommessa consente ovviamente una forma di riciclaggio di denaro e quindi anche sotto questo profilo è fortemente appetibile per la criminalità organizzata dicevamo che siamo un popolo di scommettitori ovviamente nel corso del tempo e soprattutto negli ultimi direi 30-20 anni la tipologia di gioco e quindi la tipologia di attività illegale collegata al gioco delle scommesse chiaramente ha subito una evoluzione legata soprattutto all'evoluzione tecnologica e adesso sempre di più il gioco illegale soprattutto nel campo delle scommesse ma anche dei giochi di azzardo in generale si caratterizza per l'utilizzo di strumenti prevalentemente strumenti informatici e quindi dà una maggiore difficoltà sia di controllo e eventualmente repressione dei fenomeni appunto legati al gioco illegale e allora intanto io diciamo così per fare una panoramica molto molto rapida vorrei diciamo fare un piccolo cenno a quella che è la normativa di riferimento ed in particolare la normativa di riferimento a proposito delle scommesse la diciamo legge che si occupa di gioco scommesse è la legge 401 dell'89 in particolare sulla raccolta delle scommesse clandestine la nostra diciamo la norma incriminatrice il punto di riferimento è l'articolo 4 è il comma 4 bis dell'articolo 4 che appunto puniscono lo svolgimento di attività organizzate per accettazione raccolta in via telefonica e telematica di scommesse in assenza di concessione autorizzazione e la normativa punisce poi coloro che appunto fanno un'attività di intermediazione di raccolta quindi per conto terzi delle scommesse il principio fondamentale quindi è che è possibile una attività di gioco purché questa sia regolamentata e avvenga attraverso dei canali quindi istituzionali riconosciuti attraverso dei concessionari autorizzati la diciamo attività attraverso concessione autorizzato ovviamente consente quella tracciabilità e quella verifica sotto un duplice aspetto sotto l'aspetto della conformità del gioco a delle regole quindi che non comporti un'alea non diciamo non consentite che quindi diciamo eviti possibili sovrendebitamenti dell'utente quindi del giocatore è sotto un altro profilo anche requisiti di controllo dei flussi di denaro sia anche diciamo legati chiaramente ad un'esigenza dello Stato di percepire la ehm le commissioni che sono legate appunto al gioco legale al gioco tramite concessionari legali ma anche a appunto evitare che nel circuito del gioco della scommessa entrino come ehm imprenditori comunque come eh esercenti l'attività della di gioco scommessa ehm persone appunto che non presentano dei requisiti di onorabilità e di ehm appunto eh immunità da pregiudizi penali proprio per evitare appunto che il il settore del gioco possa essere ehm possa essere appunto utilizzato come canale di ehm riciclaggio da parte della criminalità organizzata quindi diciamo la cornice dentro la quale ci muoviamo è questa i problemi che questa norma ha eh posto nel tempo sono stati diversi soprattutto legati alla appunto da un lato alla globalizzazione alla ehm sempre maggiore possibilità di ehm da parte dell'utente italiano di collegarsi eh e di giocare altrove quindi di sfuggire diciamo alle regole ehm alle rigide regole eh della eh normativa ehm eh italiana ma anche diciamo problemi collegati alla eh compatibilità di questa restrizioni normative restrizioni che è ehm lo Stato italiano e anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è sempre rivendicato come legittime perché appunto e facenti ehm eh eh ehm di donne a preservare quell'ordine pubblico interno che comunque costituisce il limite anche appunto per l'operatività poi dei eh delle norme sovranazionali e mh dicevo ha sempre eh resistito alla alle obiezioni che mh soprattutto in passato sono state fatte di compatibilità a questo ordinamento diciamo nazionale che limita la possibilità di ehm eh operare a chi non è autorizzato in Italia eh quindi non è concessionario per l'esercizio dei giochi e mh ci sono state in passato soprattutto diverse eh diverse pronunce anche della Corte Europea che ha portato a una disapplicazione della normativa italiana proprio perché ehm di età cioè in contrasto con la libertà di stabilimento in particolare appunto sono delle sentenze mh piuttosto risalenti tutte collegate alla alla società Stanley Bet essenzialmente che appunto non aveva avuto la concessione in Italia si era vista negata la possibilità di partecipare al bando per nuove concessioni aveva ritenuto questo ehm una pratica comunque discriminatoria e contraria al principio di stabilimento nei paesi dell'Unione Europea effettivamente diciamo la Corte Europea ehm gli ha dato ragione tant'è che per un periodo addirittura diciamo si è disapplicata anche la norma penale per coloro che ehm giocavano sostanzialmente con i concessionari e con i ehm con i concessionari a Marchion Stanley Bet ancorché appunto lo stesso non fosse autorizzati in Italia e eh però diciamo successivamente si è avuta una una diciamo una riapertura dei banni insomma questo mh questa vicenda in parte è stata superata quella che adesso invece appare maggiormente ehm ehm attuale anche appunto per l'evoluzione tecnologica e anche io credo soprattutto negli ultimi tempi per questa progressiva ehm ehm incremento della dell'online in generale ormai purtroppo anche in questo ultimo anno di eh diciamo di pandemia siamo sempre più abituati a stare a casa sul nostro divano e a fare tutto online e anche il gioco e le scommesse diciamo ehm online hanno avuto sicuramente un un impulso anche sotto questo pilo c'è ovviamente una necessità di regolamentare la ehm la possibilità e quindi di giocare lecitamente attraverso i canali leciti ma ehm non più recandosi presso un punto fisico un punto fisico gioco ma ehm con le piattaforme online parallelamente eh scusami scusami se ti interrompo perché volevo eh sottolineare un punto per fare diciamo un un'altra domanda in qualche modo negli ultimi anni la strategia un pezzo importante della strategia eh di contrasto in Italia al gioco illegale è stata quella di creare uno spazio di gioco legale controllato molto vigilato eccetera eh nell'arco del 2020 abbiamo avuto quello che eh per gli economisti è eh un esperimento naturale per i magistrati probabilmente invece è una una dose aggiuntiva di lavoro perché tutto il gioco legale per lo meno quello fisico è stato sostanzialmente impedito attraverso la chiusura delle delle sale scommesse sale bingo eccetera e in effetti i primi dati per quanto ehm diciamo siano siano mere stime suggeriscono che c'è stato nel 2020 eh un probabile aumento del ricorso al gioco illegale sia online eh sia offline eh volevo chiederti se tu effettivamente nella nella tua esperienza hai riscontrato eh questo fenomeno diciamo nell'ambito del dell'attività della vostra procura e più in generale eh se ritieni che effettivamente eh la divisione netta e l'identificazione netta di uno spazio in cui il gioco è possibile a condizioni sorvegliate regolamentate eccetera sia un pezzo rilevante di una di una strategia di contrasto e di creazione di un'alternativa ai canali eh invece illegali che nel passato hanno avuto una una prevalenza probabilmente molto più forte sì no sicuramente allora mh come dicevo prima chiaramente si sono evoluti i costumi e quindi si è anche evoluta la ehm appunto la la dinamica l'abitudine la consuetudine anche al al gioco quindi il giocatore al di là appunto del divieto poi di questo ultimo anno ma sempre di più tendeva chiaramente poi questo dipende anche dalle fasce diciamo di di età di istruzione di dimestichezza più che distruzione di dimestichezza proprio informatica ehm ma sempre di più eh anche prima appunto del del lockdown abbiamo riscontrato un incremento di diciamo utenti di gioco online è quello che poi diciamo eh non colpisce poi più di tanto cioè la capacità della criminalità di adattarsi all'appunto all'evoluzione dei tempi la creazione di canali ehm di gioco legale paralleli a quelli legali anche online cioè mentre prima sostanzialmente le modalità di eh per esempio operatività delle scommesse clandestine ad opera appunto della delle gestite proprio dalla criminalità organizzata anche appunto dalla criminalità mafiosa anche su base proprio territoriale si si fondava maggiormente sulla eh diciamo era parallela a quella legale nel punto fisico e quindi si aveva ad esempio un punto fisico in cui ehm si eh gestito da un concessionario autorizzato che talvolta infedele faceva anche eh da collettore eh di un canale illecito oltre appunto al punto fisico del tutto illegale che diciamo sorgeva ehm tollerato o poi comunque scoperto eh dalla eh dalle forze dell'ordine ehm sempre di più e sempre di più nella diciamo nella assolutamente negli ultimi tempi ehm la criminalità organizzata anche avvalendosi di tecnici informatici di una certa diciamo professionalità ha creato proprio dei siti e dei canali ehm ehm informatici anche là paralleli con delle modalità anche idone a trarre in inganno eventualmente un ehm un giocatore poco accorto ma tendenzialmente diciamo sicuramente che vengono ricercate da chi proprio cerca il canale illegale e si sono spostati proprio su piattaforma e quindi ehm recenti indagini hanno dimostrato come ehm effettivamente la eh criminalità organizzata si è proprio ehm struttura ha strutturato delle piattaforme di gioco anche proprio da un punto di vista visivo e operativo del tutto omologhe e ehm che simulano la la stessa operatività della ehm della piattaforma eh invece autorizzata e quindi hanno spostato in questo settore e ovviamente purtroppo ehm la criminalità va sempre al passo con la tecnologia le forze dell'ordine certe volte stanno un po' più indietro è comunque un po' più difficile andare al passo con questa ehm con queste nuove operatività le esperienze pratiche mi portano a dire che ehm si scoprono questi meccanismi ehm paralleli di scommesse clandestine eh facendo le attività poi eh tradizionali di contrasto alla criminalità organizzata quindi nell'ambito di indagini di tipo tradizionale poi si eh individua attraverso intercettazioni attraverso altre eh operazioni si individua l'esistenza di questi canali e poi quindi si passa a questo tipo di di attività probabilmente sarebbe interessante ancora diciamo io personalmente non non l'ho sperimentato ehm attivare un monitoraggio e attivare una forma di indagine su questo settore in questo settore che parta proprio da una perlostrazione del web abbiamo un diciamo casi diversi di eh reati che hanno appunto una loro ehm un loro terreno di cultura nella appunto nella nella diffusione via web penso per esempio alla pornografia minorile ehm in cui già l'attività di contrasto è proprio ehm ovviamente già strutturata e settata su un'attività di indagini di tipo informatico con insomma già delle modalità operative devo dire molto comunque ormai avviate e consolidate nel settore del gioco proprio perché tendenzialmente ehm eh è appunto considerata un'attività di ehm reinvestimento da parte della delle organizzazioni criminali eh le modalità di indagine rimangono tendenzialmente quelle della quelle diciamo di contrasto alle organizzazioni criminali salvo poi appunto a verificare l'esistenza di questi eh programmi informatici sofisticati di queste strutture ehm effettivamente molto molto ben eh rodate. L'ulteriore problema ovviamente eh che eh si riscontra in questi casi è che anche il flusso di denaro chiaramente passa attraverso dei canali che eh diciamo mh a prima eh a una prima superficiale eh analisi non sono così facilmente eh intracciabili. Esatto. Ero intracciabili. No scusa allora ehm ti volevo fare una domanda per chiudere la nostra mh chiacchierata. Eh in realtà ti ti faccio una domanda eh non ti voglio mettere in balazzo e che non ti ci potrei mettere ma eh so che appunto i magistrati so per l'esperienza personale che i magistrati sono neutrali e interpretano e sanno applicare le leggi così come sono. Però chiaramente sono esperti e qualificati operatori del diritto che poi si ritrovano degli strumenti con i quali devono lavorare. Ecco dal tuo osservatorio privilegiato a questo punto di vista e dopo che ci hai raccontato anche una genesi e una modifica no via via di questa normativa che in fondo vi ha dato mano a mano degli strumenti per affinare o meno eh appunto la possibilità di perseguire i reati. Ci hai raccontato appunto all'inizio il contrasto con la eh il diritto europeo il problema quindi di chi effettivamente sta commettendo un reato come i casi che ci hai raccontato chi invece ha un problema amministrativo cioè di concessione. Ecco ritieni che ad oggi dopo che un po' di tempo dai da quando appunto la normativa è partita da quando poi si è inserita tutta la nomenclatura e la sovrastruttura europea sia un po' si è diventata. Ecco ritieni che oggi eh a a te e ai tuoi colleghi sia dato strumentazione giuridica sufficiente a poter contrastare il fenomeno e nello stesso tempo ritieni che le interpretazioni siano abbastanza chiare da garantire un esercizio legale per chi volesse intraprendere questa attività senza sorprese senza fraintendimenti cioè il tipico caso faccio l'esempio dico lo dico sempre i reati ambientali no sono complicatissimi tante volte uno anche senza volerlo no si finisce magari col commettere o col finire per fare ecco tu ritieni che a oggi sia adeguata per contrastare e nello stesso tempo sia abbastanza certa e con confini chiari per consentire a chi vuole intraprendere e lavorare in questo settore di non incorrere in sorprese? Io penso tendenzialmente di sì e a proposito degli strumenti di contrasto una diciamo anticipando eh mi hai anticipato avrei ehm fatto riferimento a quella che mh a mio avviso una eh ulteriore novità eh assolutamente mh vista con assoluto favore da parte degli operatori del diritto in particolare mh da parte di chi come me è appassionata della responsabilità amministrativa degli enti perché ehm come eh insomma saprà da chi si occupa di diritto ehm in Italia ehm il diritto penale tradizionale ovviamente riguarda le persone fisiche dal duemila e uno con un certo ritardo rispetto a molti altri paesi eh anche europei ehm è stata introdotta una responsabilità amministrativa degli enti da reato cioè la una responsabilità della persona giuridica per i reati commessi da eh un soggetto eh apicale o comunque eh che ha una responsabilità e che agisce in nome per conto dell'ente ehm di rispondere del reato ehm questa la diciamo struttura della responsabilità amministrativa degli enti nella nella nel sistema nostro eh è stata ehm parcellizzata cioè il legislatore di volta in volta ha inserito alcuni reati per i quali eh anche l'ente risponde nel duemila e tredici credo non vorrei dire una stupidaggine eh si è ehm è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti anche per il il reati relativi alle scommesse clandestine ed è chiaro come eh trattandosi appunto come dicevamo prima di un eh un settore in cui sempre di più è richiesta una eh struttura organizzata una conoscenza tecnologica è una quindi una possibilità di diciamo stare nel mercato con una struttura imprenditoriale è evidente come colpire non solo il soggetto persona fisica che diciamo poi nell'esperienza pratica talvolta può essere un prestanome una mera un persona di comodo ma colpire anche l'ente quindi la 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 struttura societaria che gestisce materialmente il gioco con le scommesse clandestine è chiaramente una ehm un potenziamento delle della degli strumenti a disposizione quindi un diciamo sicuramente una implementazione degli strumenti di contrasto che rendono in qualche modo più efficace il sistema di ehm appunto di contrasto alla alla al fenomeno in generale quanto per quanto riguarda diciamo le le conoscenze amministrative beh io siccome sono sempre malpensante da pubblico ministero ritengo che chi si ehm che si approccia eh quindi chi vuole eh iniziare un'attività imprenditoriale in questo settore ha ovviamente un obbligo di eh conoscenza del settore spesso ehm ci capitano eh anche appunto i piccoli ma qua parlo appunto di di diciamo di fenomeni criminali meno meno rilevanti il piccolo che apre appunto il punto internet point che poi fa attività di intermediazione di scommesse che si difende dicendo ah ma mi avevano detto porta la documentazione della fantomatica società ehm eh maltese perché dico no lo dico non lo dico a caso ma comunque insomma ci sono casi di 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 ma si sa Malta Malta Gersi diciamo i posti poi sono questi qua si sa i sole caldo esattamente dicono diciamo allegano una serie di documenti dicendo ma io pensavo che la società maltese fosse regola beh diciamo ripeto forse un po' troppo un approccio da pubblico ministero però eh ritengo che la normativa diciamo consenta di orientarsi in maniera abbastanza ehm eh abbastanza chiara teniamo presente che appunto al di là della ehm della diciamo delle aperture ehm alla al diritto di stabilimento e quindi alla possibilità di di lavorare anche per un operatore eh estero comunque ci sono le regole del diritto interno che comunque rimangono sono evidenti e quindi ehm tendenzialmente poi credo che anche in questo settore c'è sicuramente un obbligo di eh appunto una richiesta di autorizzazione una diciamo un leader burocratico che però comunque non d'altronde d'altronde si tratta per i motivi che abbiamo detto di un settore regolato e quindi è chiaro che ci vuole un'adeguata professionalità per lavorare questo diciamo è evidente e da questo punto di vista credo che sia importante preservare il sistema delle concessioni perché di fatto anziché spezzettare la disciplina tra migliaia o decine di migliaia dei piccoli esercenti di fatto la riconduce a un numero relativamente limitato dei concessionari che rende relativamente più facile individuare quello che è un loro eh collaboratore rispetto al all'iniziativa che appunto si nasconde dietro dietro forme un po' improvvisate eh questo certamente è un elemento importante del sistema attuale e che contribuisce a tracciare la linea in modo più netto tra il gioco legale e il gioco illegale senza dimenticare che il gioco illegale quando si somma a fenomeni di patologie di ludopatie eccetera diventa davvero una 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 bomba a orologeria dal punto di vista sociale e quindi è importante a maggior ragione individuarlo contrastarlo e limitarlo benissimo sì assolutamente appunto senza dimenticare che tutto ciò che rimane in un canale illegale in questo settore più che in altri è qualcosa che non fa altro che alimentare arricchire e mantenere il potere economico di organizzazioni criminali appunto che che sono certamente diciamo molto di più che semplici criminali sono strutture chiaramente organizzate le quali hanno poi diventano una sfida per lo Stato allora ringraziamo moltissimo Claudia Ferrari eh per essere stata con noi l'abbiamo sottratto tempo prezioso ma come avevamo ben capito avevamo bisogno di un ospite d'eccezione perché né io né Carlo Stagnaro saremmo stati capaci di spiegare con questa abilità tutto quello che riguarda un settore certamente complesso che però per quello che abbiamo sentito ha delle regole ormai chiare grazie ancora a Claudia Ferrari buon lavoro grazie mille grazie a voi buon lavoro a presto a presto a presto a presto a presto a presto a presto